Signore e signori, a nome della Costa Cocciere, dallo Stato Maggiore ufficiale del Vimpaggio, è un piacere di porgi di più grandiale e benvenuti a Bordo. Vi ringrazio di aver scelto la Costa Mediterranea per la vostra vacanza, spero la troviate accogliente e confortevoli e che i giorni trascorsi a Bordo restino per tutti voi con il piacevole ricordo. Benvenuti a Bordo, una buona cosciera e grazie per essere i miei collochi per aver scelto la vacanza da cosciera a Costa. Grazie. Il direttore mondiale per il diretto, il commissario principale, Ingrid Apera. Il comandante seconda, la staff captain, il secondo valore, il secondo capitale, Fabio Bravato. Il vostro direttore di cosciera, il cosciera, il vostro direttore. Bene, signore e signori, prima di fare un predisi con il nostro comandante e con gli ufficiali vorremmo proporvi una sorpresa, un'onore a Costa, come sapete quest'anno è il 65esimo anniversario, pensate, buon compleanno a Costa. Bene, e allora vi offriamo un piccolo ma significativo video. Prego l'analogia. Grazie. Grazie. All I see are slight sky Every time I look into your eyes Here we go again Clouds that cover All skies are said We'll just fly Grazie. Grazie a tutti e a tutti e a tutti, signore e signori, e con voi, Happy Birthday Costa! Happy Birthday to you.